Noi ci crediamo! Ragazzi noi ci crediamo! 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 No chiamo, no chiamo, no chiamo, no chiamo, no chiamo. Un crompo su, un solo grito ezeroze a zero Ulione qua! Ulione a Ultimo e답 Un crompo su, un solo grito ezeroze a zero L'unione qua, l'unione da, l'unione forte vincerà Allè, 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 n'import la mica diネra mehr Allè, 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 n'import la mica diネra Mo più livello tommo. Non ci vuoi, non ci vuoi, non ci vuoi. Andrea, voi. Voi. Chi noi siamo, chi noi siamo, e noi glielodichiamo, e noi glielodichiamo, e noi glielodichiamo, e noi glielodichiamo, chi noi siamo, chi noi siamo, siamo la nuova taranzo bene, e mai succederà. Giustamente le mani glielodichiamo, chi noi glielodichiamo, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.